Ecco, stasera ci siamo divertiti, se avete visto la partita come me, stasera ci siamo divertiti i volti giovani, onesti eh, sinceri, no perché oggi mamma mia è stata una partita blanda, poi nel pomeriggio ok ho visto anche un po' l'Austria con la Macedonia, ok ma mamma mia, mamma mia, ritme inesistenti, no, blandi, stasera invece intensità, corsa, occasioni, gol, perle, anche se quella più bella, più splendente, più mirabile, ce la regala sempre la Rai, ecco voi direte ma perché non le seguo adesso su Skype? Avete ragione, mi avete colto in fallo, ok giusto, vero, però mi diverso, voglio sentire proprio cosa si inventano ad una certa, questo mi viene detto, tranne per l'Italia che comunque piaccia o non piaccia, caressa, bergomi, le ascolto con piacere, mi entusiasmano, mi coinvolgono, ok, però quando poi la Rai va ascoltata, perché ti regala come appunto, ti regala delle, non so cosa ti regala, però fatto sta che sul secondo gol, no, Giordano, fuori gioco, gol, è fantastico, sono divertente, sono divertente, poi in effetti hanno tirato la linea, altrimenti sarebbe stato assurdo, è un gol del genere veramente, veramente, veramente assurdo, sarebbe stato, eh, ebbè, comunque, comunque parliamo della gara, perché c'è tanto da dire, ragazzi, c'è tanto da dire, e già come al solito, eh, mi, mi dilungo su questioni secondarie, prima però, come al solito, scaricate l'app, OneFootball, perché? Perché vi aggiorna, sull'europeo, quindi su eventuale classifica, calendario, su, su ogni, eh, su ogni news, per l'appunto, che riguarda anche il calcio mercato, calcio, 360 gradi, c'è di tutte di più, il link è in descrizione, l'app è gratuita, ragazzi, che vi voglio di scaricatelo, detto questo, detto questo, l'Olanda vince, giocando, imponendo il proprio, il proprio gioco, imponendo, eh, il proprio credo, il proprio calcio, e, nonostante poi, io non possa, non riesca, neanche a tollerare De Burr, e mando un bacio, un grossissimo bacio, a quel tifoso, no, che ha ingaggiato, praticamente, eh, che ha affittato un aereo, no, con, con un cartello, con uno striscione, affisso, dove, dove, volante, dove, c'era scritto, devi giocare col 4-3-3, cioè, anche i tifosi, impongono all'allenatore, altri schemi, cioè, riesce a mettere in disaccordo tutti, Frank De Burr, quindi, non invidio, per l'appunto, gli olandesi che se lo ritrovano in casa, non gli invidio, non li invidio per nulla, per nulla, per nulla, per nulla, ma, detto questo, detto questo, l'Olanda, la sua Olanda, c'è dei giocatori che sono di una qualità immensa, cioè, ci sono dei giocatori che sono di una qualità immensa, uno su tutti, Giorgetto, Giorgetto, sì, Giorgino, direte voi, no, Giorgetto, 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 è una roba spaventosa, è rosico da morire, rosico da matti, e se ci penso, mi innervosisco, questo qua, eh, indovinato un po' dov'è, indovinato un po' dov'è, e sì, al PSG, anche lui, cioè, c'erano due o tre giocatori, no, da poter prendere a zero, eh, indovinato un po', chi li ha presi già, tutti e due, tutti e due il PSG, Donnarum, Vainaldum, forse prenderanno a Kimi, cioè, questi qua, sono gli unici che possono fare ancora quello che vogliono, quello, c'è un giocatore che fa, lo prendono loro, 10 milioni a Vainaldum, 12 a Donnarum, ma non lo vinceranno mai la Coppa, non la devono vincere mai, scusate, sto rosicando, sì, lo ammetto, eh, ma continuo a rosicare, pazienza, perché queste cose mi, 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 mi inalberano, mi inalberano, detto questo, Giorgetto, è fenomenale, è totale, è totale, giocatore totale, voi ditemi dove giocava stasera, ecco, ve lo dico io, ovunque, giocava dappertutto, no, tu dici che è il play basso, no, non è il play basso, per la maggior parte è stato il vertice alto, eh, poi te lo trovavi in mezza alla sinistra, poi te lo trovavi in mezza alla destra, totale, totale, e fa tutto, fa tutto, cioè, fa veramente tutto, personalità, leadership, eh, all'inserimento, al tiro da fuori, segna, eh, ditemi voi, al dribbling, perché parte va anche in dribbling, totale, totale, cioè, eh, non trovo aggettivo migliore, totale, incredibile, cioè, con un giocatore del genere puoi far piovere e nevicare, con un giocatore del genere puoi far piovere e nevicare, poi, eh, i suoi partner in mezzo al campo non è che sono così scarsi, eh, non è che sono così lontani dalla sua qualità, perché se prendi De Jong, figlio mio, anche lui, non scherza mica, De Ron, mica male, quindi l'Olanda ha dei giocatori importanti, sicuramente è indubbia, è indubbiamente, ha giocato, ha giocato nel primo tempo, poi, tra l'altro, ha sbagliato anche l'impossibile, eh, assolutamente, con il, il giocatore Memphis, che poi ha segnato il 3-2 con un gol bellissimo, tra l'altro, no, no, con una zuccata importante, ma prima si era divorato l'impossibile, l'immaginabile, praticamente, e, eh, e la partita è stata bella, perché sul 2-0 sembrava tutto chiuso, e poi, mamma mia, che perla che ci ha regalato Jarmolenko, un tiro bellissimo, che grazia, tanta grazia, tanta grazia, quel sinistro, tanta, tanta grazia, e lì è andato in bambola, lì è andato in bambola, lì, per 3, 4, 5, 6 minuti, l'Olanda fuori, controllo, fuori di testa, ha perso la bussola, ha subito anche il 2-2, perché Malino, Malino, Malinoski ha messo una palla, niente male in mezzo, e la difesa si è fatta trovare, si è fatta trovare impreparata, 2-2, e poi, di nuovo, è di nuovo, salita in cattedra l'Olanda, e vince con, vince comunque con, con merito, perché, ripeto, l'hanno giocata loro la partita, l'hanno, l'hanno dominata loro in lungo e largo, poi, qualcosina, in contropieda l'Ucraina l'ha mostrato, però, solo azione individuale, al mio modo da, al mio modo di vedere. Detto questo, stiamo attenti perché, perché, perché una di queste squadre potrebbe essere l'avversaria dell'Italia, quindi questo è un gruppo da attenzionare, perché se l'Italia arriva prima, termina come prima classificata nel nostro, nel nostro gruppo, affronterà la seconda di questo gruppo, e abbiamo visto che comunque, beh, io penso che con l'Ucraina possiamo, possiamo giocarci, indubbiamente, poi l'altra gara, e se vogliamo parliamo anche un po', Austria-Macedonia, l'ho vista anche un po', un po' di sfuggita, devo, devo essere sincero, però l'Austria è sicuramente di un altro, di un altro livello, la Macedonia la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, brutto, 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 forse dirlo già adesso, dalla prima partita, però la squadra che, innanzitutto, bisogna, bisogna capire che questi per la prima volta competono in un, in un campionato internazionale ufficiale, come può essere un europeo o un mondiale, la prima volta in assoluto nella propria storia, e quindi il gol di Pandevo oggi è storico, la prima presenza, la prima apparizione è storica, per cui già credo che per loro sia, sia tanta, sia tanta roba giocassero questo, questo gruppo, questo girone. L'Austria, squadra di un altro livello, con Sabitzer, Alaba, che è il suo giocatore stratosferici, poi c'è l'Arnautovic, c'è qualche giocatore, comunque niente, niente male, e vedremo, vedremo un pochettino, però questo è un gruppo, ribadisco, da attenzionare, perché ce le possiamo trovare, una di queste squadre, ce la possiamo ritrovare agli, agli, agli ottavi, se non combiniamo capolate, che sia, che sia bianchiato, ma credo, credo, credo fermamente che, che riusciamo a concludere in prima posizione, quindi vediamo un po', vediamo un po' quello che, che capita, vediamo un po' quello che, che accade. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likecate, iscrivetevi al canale, non vado troppo per le lunghe, aspetto la vostra nei commenti, va bene? Un grande abbraccio, ne esche.